Bitonto ha aderito come unico comune dopo San Michele nella provincia di Bari a Luoghi Comuni, progetto di innovazione sociale delle politiche giovanili della regione Puglia e delle arti, che punta a valorizzare spazi pubblici con l'aiuto di associazioni del territorio. È stata scelta la Biblioteca Comunale, dove nei giorni scorsi è stato inaugurato un centro, che verrà messo al servizio della cittadinanza. In periodo pandemico questo viene molto limitato, quindi i lavori si sono protratti più del previsto, però alla fine oggi abbiamo perlomeno un luogo che possiamo riconsegnare alla comunità. Un progetto che ha seguito Rosa Calò, che ringrazio ancora una volta per la sua abnegazione, e i servizi sociali, in particolare il modulficio di piano, che ha affiancato Rosa nella procedura, e quindi anche il dirigente Andrea Foti, oltre che tutto il Consiglio Comunale. Il centro sarà gestito per ben due anni dall'associazione U-Lab. L'obiettivo sarà quello di rendere ogni cittadino attivo collaboratore della comunità, come ha spiegato l'architetto Federica Florio, presidente dell'associazione. Vogliamo realizzare un hub di comunità, quindi chiamare a raccolta tutti i cittadini, tutti gli stakeholder, tutte le realtà associative, tecniche, attive sul territorio, per iniziare insieme percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva.